Chiari amici, ben arrivato a una nuova riflessione fotografica che avete letto dal titolo a che fare con, se vogliamo, il mercato fotografico. Cioè il titolo è un po' strano, diciamo la verità. Il video salverà le aziende che producono fotocamere? Perché mentre scrivevo il titolo, ghignavo, ve lo dico sinceramente, perché mi sono immaginato il cervello di qualcuno di voi che si infiltrisce come la lana, no? Sai quando la metti in lavatrice e sbagli alla temperatura, no? Si infiltrisce. Allora uno si ferma a riflettere e dice, ma come? Il video salverà le aziende che producono fotocamere? C'è, sta cosa è strana, no? È strana. Però è quello che in questo mondo ormai schizzato completamente, pazzo, alla rovescia, preoccupante da certi punti di vista, tutto sta accadendo e tutto può accadere. Perché riflettevo ieri sera, cucinavo per mia figlia e riflettevo. Riflettevo e ho detto, ma effettivamente, ma ci rendiamo conto che tutte le aziende, ormai giapponesi soprattutto, stanno puntando sul video. Perché? Perché se voi, pensiamoci un attimo, facciamo un'analisi veloce. Allora, cominciamo da Olimpus. Olimpus, sapete, ha cambiato gestione, non si sa cosa succederà, però già la nuova gestione ha dichiarato che punterà tutto sui prodotti di alta fascia, in sostanza dove c'è più denaro, dove c'è più pila, come dicono a Parma. Quindi puntano sul fotocamere di alta fascia e puntano tanto sul lato video. Quindi già prima di iniziare a produrre hanno dichiarato le loro intenzioni. Panasonic ha dichiarato che il Mico 4 terzi lo porterà da un sistema più fotografico, un sistema più pensato per il vlogger, insomma per il video sostanzialmente, o comunque per chi crea contenuti digitali. Fuji anche, vedete che sta puntando molto sul video, l'XT4 all'epoca l'H1, adesso l'XS10, insomma, no, stanno tutte puntando su questa direzione. C'è il video, video, video. Insomma, sembrerebbe che sia la panacea, insomma, di tutti i mali. Canon, idem, insomma, l'hype forte di Canon sull'R5, dunque in parte l'R6 è stato il video, poi in realtà è stato un flop, ma insomma è stato il video, no, l'8K, bla bla bla. Insomma, Nikon ha tirato fuori il firmware per il ProRes Raw, insomma, tutti i marchi, tutte le aziende produttrici di fotocamere stanno puntando sul video, sul video. Ora, io di per sé non ho nulla contro questo aspetto, anzi, se vi ricordate, sono stato uno dei pochi all'epoca che, parlando dei vari sistemi fotografici, affermò che effettivamente il video nel breve periodo sarebbe diventato un elemento chiave per il successo delle aziende. Ed è così è, lo vedete da voi, effettivamente, il video sembra essere ormai l'aspirina, l'antivirale, chiamatelo come vi pare, che può salvare la crisi profondissima nella quale sono sprofondate le aziende di attrezzature fotografiche. E quindi tutti sul lato video. Sicuramente il video avrà un'importanza sempre maggiore e questo è dovuto anche, ragazzi, ragioniamo un attimo, un po' a 360 gradi allo sviluppo del 5G. Cioè il video è stato fortemente rallentato per tutto ciò che c'è dietro al video. Insomma, tempi di montaggio importanti, tempi di upload importanti, di condivisione importanti. Insomma, sostanzialmente il video ha un imbuto che a un certo punto ne limita un po' la fruizione. Invece la fotografia, soprattutto se è stampata, insomma è sempre disponibile. E comunque ormai l'hardware è in grado e la connettività è in grado di trasmettere foto con una grande rapidità. Il video un pochino meno. Con l'avvento ormai del 5G chiaramente il video sarà un elemento chiave perché il video ha un potere descrittivo maggiore rispetto alla fotografia. Cioè se io devo illustrare un prodotto o un avvenimento, chiaramente il video mi permette di farlo arricchendo più contenuti anche perché c'è l'audio e quindi insomma c'è la possibilità di un montaggio eccetera eccetera. Per cui è inevitabile che il video prenderà sempre più piede ragazzi. Cioè mettiamoci nella zucca che ci piaccia o non ci piaccia il video sarà sempre più diffuso. Per questa ragione è perché il mondo sta andando in questa direzione e vogliono che vada in questa direzione perché non ci dimentichiamo che non è che le aziende semplicemente fanno quello che vogliono i consumatori. anzi a volte non se li cagano di striscio nonostante urlino a voce altissima però proprio non ci sentono. Le aziende pensano che questa possa esserci ancora nel settore del video un po' di soldi sul tavolo e tutti quanti ci si fiondano a prendere insomma i soldi a darraffare la loro porzione. Questo è un po' l'approccio del marketing ragazzi, l'approccio del marketing è sostanzialmente questo. Diciamo ok, dov'è che c'è un po' di mercato dov'è che c'è ancora un po' di denaro di pila, di soldi lì, benissimo, ok e si inventano qualcosa per convincere quella clientela di riferimento quel mercato di riferimento per comprare il proprio prodotto insomma in soldoni in maniera molto grossolana questo è il discorso. Quindi da una parte non ci vedo niente di male quantomeno mi sembra un proseguo purtroppo o per fortuna naturale di come stanno andando le cose ma non solo la fotografia diventerà un'estrapolazione del video ripeto, mettiamocelo nella zucca sarà così gli strumenti le fotocamere il smartphone eccetera acquisiranno porzioni di realtà dalle quali il fotografo chiamiamolo fotografo in realtà scomparirà anche il concetto di fotografo nel senso letterale del termine estrapolerà un fotogramma un'immagine una porzione di video che secondo lui descrive meglio insomma quello che è accaduto questo è quello che ci aspetta ragazzi è così sarà così ma è inevitabile che sia così o almeno per gran parte dei prodotti sarà così ora torniamo alla domanda ma il video salverà le aziende che producono che fino ad oggi hanno prodotto fotocamere allora questa è una domanda difficile non sono così convinto che il video possa salvare il futuro delle aziende che producono fotocamere perché secondo me c'è un male più profondo nel modo in cui le aziende soprattutto giapponesi si approcciano al mercato intanto lo fanno con una competizione e con un approccio una fame bulimica che sostanza bruciano subito tutto cioè è un approccio un po' da locusta arrivano mangiano quello che c'è da mangiare e poi dopo ripartono e vanno su un nuovo mercato arrivano adesso c'è il video zoom tutti quanti andiamo andiamo c'è il video forza e cercano di prendersi quella porzione di mercato che potenzialmente possono prendere questo è l'approccio classico di chi si occupa di marketing di strategie commerciali è assolutamente tipico e i giapponesi lo fanno in maniera ripeto veramente aggressiva piuttosto bulimica tra l'altro producendo in continuazione prodotti su prodotti prodotti su prodotti e alla fine praticamente creano un'inflazione insomma una saturazione del mercato piuttosto precoce quindi secondo me con l'approccio che stanno già avendo adesso che è partito uno ci vanno a ruota a partire indietro tutti secondo me nell'arco di poco tempo si troveranno di nuovo con un cerino in mano che sta finendo la corsa io ho questa sensazione magari mi sbaglio spero di no e poi vi dico una cosa quando feci l'esame di antropologia culturale devo dire che mi rimase molto impresso un concetto era una parte monografica dell'esame insomma il concetto di genio di genio di una popolazione di una cultura e non è genio non è inteso come una persona che è più intelligente di un altro più sveglio di un altro non è tanto questo il concetto di genio il concetto di genio è il senso più profondo di una cultura è lo spirito di una cultura non so prendiamo indiani d'america l'attaccamento alla natura alla prateria per alcune culture e popolazioni indiane ma insomma adesso non entriamo nel campo dell'antropologia non è questo il tema perché sto facendo questo parallelismo perché io credo che così come per una cultura vale anche se vogliamo per l'individuo ma anche per l'azienda cioè le aziende hanno una propria genialità hanno un senso più profondo di esistere che spesso è nasce con la scintilla di un visionario di un qualcuno che ha creduto ha visto qualcosa prima e meglio degli altri e sul quale ha costruito una realtà economica produttiva poi economica e oggi come oggi una gran parte sono finanziarie purtroppo quindi nasce dal genio ecco il fatto è che appunto sempre facendo il parallelismo con l'antropologia quando quella quella cultura si smarrisce il proprio genio cioè le proprie origini nel senso più profondo e spesso nascono problemi importanti che a livello sociologico possono impattare problemi di alculismo generalizzato eccetera eccetera ecco la stessa cosa nell'azienda torniamo alle aziende che producono fotocamere o le aziende in generale nel momento in cui l'azienda perde il senso più profondo la visione più profonda di quello che fa e perché lo fa che spesso non è legata al fare i piccioli fare i soldi ma è legata all'idea di creare un prodotto straordinario diverso visionario ecco quando l'azienda perde quella spinta propulsiva iniziano i guai a volte ci vuole parecchio tempo perché magari l'azienda è particolarmente florida altre volte in poco tempo una svampata e le aziende scoppiano come popcorn ecco quindi secondo me ragazzi io vi dico la mia io credo che non è la ricerca spasmodica e ripeto bulimica di un mercato a cui attingere le ultime risorse disponibili che possa far salvare o possa rendere prospera un'azienda io credo che c'è bisogno e oggi più che mai c'è bisogno di visionari ecco questo è il mio pensiero secondo me c'è bisogno nuovamente di visionari ragazzi e nel mondo della fotografia ne abbiamo avuti alcuni parliamo di di Maitani nel mondo dell'Olympus lo M aveva questa idea di miniaturizzazione ha creato dei prodotti particolari che ancora oggi sono fonte di ispirazione ancora oggi quando si utilizzano sono fantastici hanno qualcosa di unico parliamo di Barnac per quanto riguarda la Laika insomma un prodotto sicuramente ancora oggi Laika M mi riferisco ancora oggi iper apprezzato parliamo di Assemblad che era appassionato di fotografia di ornitologia e voleva un prodotto più veloce più dinamico più piccolo rispetto ai banchi ottici insomma nell'epoca in cui lui chiaramente è vissuto quindi hanno avuto una visione si sono concentrati su un prodotto quindi quel prodotto aveva un'anima un senso un qualcosa che andava oltre ecco io quello che vedo mancare francamente lo dico senza offende voler offendere nessuno quello che vedo mancare oggi nel mondo dell'imprenditoria un po' 360 gradi ma parliamo del mondo fotografico che è quello che conosco di più e non mi va insomma di poi sparare su altre realtà che magari c'è tanto di buono nel mondo del mercato fotografico io vedo tanto marketing vedo tanta finanza vedo tanta impresa ma invece vedo poca visione a volte anche un po' folle una visione un po' ossessiva su un qualcosa che probabilmente gli altri ancora non riescono a vedere ecco manca secondo me questa genialità come ha avuto magari Steve Jobs poi Steve Jobs ha fatto anche delle cose che ha rovinato il mondo o quantomeno non è che è tutto fantastico quello che ha fatto Steve Jobs cioè non è che ha inventato il vaccino contro il bagliolo contro la malattia insomma ha fatto al fine l'elettrodomestico diciamo anche le cose come stanno però va riconosciuto Steve Jobs questo attaccamento incredibile sul prodotto i soldi arrivano se arrivano sono una conseguenza mi rendo conto che è difficilissimo trovare un equilibrio tra visione del prodotto e aspetti di marketing commerciali economici di impresa è molto molto difficile infatti i casi sono piuttosto rari però mi dà l'idea che non sono neanche più alla ricerca le aziende di questo cioè di creare qualcosa di nuovo lo si vede anche con i sensori ormai i sensori sono tutti uguali il software è molto più remunerativo dell'hardware l'hardware significa investimenti significa ricerca significa sviluppo significa imprese produttive impianti produttivi il software sostanzialmente una volta che l'hai creato ok deve aggiornare eccetera ma insomma non ha costi di produzione quindi è estremamente più redditizio quindi io sinceramente il mio augurio ecco detto questo io non credo che il video salverà le aziende produttrici di fotocamere secondo me sarà un po' quello che è successo con Kodak che produceva pellicole poi a un certo punto ha deciso ha inventato il sensore ripeto è stato l'esempio di masochismo aziendale più grande mai visto nella storia di tutti i tempi e praticamente è finita come è finita sapete che adesso Kodak produce materiali chimici per l'industria farmaceutica gran parte insomma a meno una buona parte dell'azienda quindi ha perso il senso più profondo di quello che stava facendo gli uomini visionari purtroppo non è che è così vengono riprodotti in continuo sono delle eccezioni dei casi ma è anche vero che se non si crea un ambiente predisposto a far crescere queste genialità la vedo veramente dura ecco la mia riflessione nasce da questo oggi c'è tutta questa tendenza al video che ripeto sarà sicuramente l'elemento chiave per i prossimi anni ma prossimi diciamo comunque pochi ma la vera svolta ci sarà quando finalmente tireranno fuori della ciccia ragazzi si devono tirare fuori della ciccia non soluzioni software dell'intelligenza artificiale va bene ma deve venire fuori della ciccia devono far fare un salto completo ai prodotti che stanno facendo e poi io vorrei rivedere molta più anima molto più visione e qualità nei prodotti che vengono prodotti che vengono appunto creati dalle case produttrici ecco questo secondo me è un aspetto chiave un aspetto importante che ripeto in alcune aziende lo vedo un pochino di più in altre aziende sinceramente lo vedo molto meno e attenzione all'approccio in chiusura all'approccio questo veramente bulimico compulsivo nel saturare velocemente nuove nicchie di mercato che poi dopo ti sono fuochi di paglia cioè dopo stai da capo a 12 quindi attenzione più visione meno marketing brutale quello brutale non quello sano non quello buono fatemi sapere cosa ne pensate mettetemi un like iscrivetevi al canale ci vediamo alla prossima riflessione fotografica ciao ragazzi